benvenuti su energia fai da te il mio canale youtube in questi pochi minuti vi voglio spiegare qual è la mission di questo canale dal 1980 mi trovo immerso in questo mondo dell'energia alternativa dove i primi pannelli fotovoltaici veramente costano tantissimo producevano poco ora in questo canale tutta l'esperienza maturata in questi anni euro allora solo un ragazzo sarà messa a disposizione degli utenti di questo canale per poter realizzare e questo lo scopo primario del canale un impianto fai da te il titolo del canale proprio energia fai da te dove andrò a spiegare passo passo quelli che sono gli elementi fondamentali per il fotovoltaico per l'eolico per quanto riguarda l'energia alternativa e oggi finalmente dopo che la tecnologia ha raggiunto livelli tempo fa inimmaginabili riusciamo a realizzare gli impianti anche a costi contenuti tanti ragazzi che hanno seguito questo canale sono riusciti a realizzare gli impianti lo potete leggere nei commenti qualsiasi informazione sarà frutto di test effettuati personalmente e di ricerche fatte negli anni non ci sarà nulla attinto da altre fonti se non sarà da me verificato quindi è un canale che trasmette poi non solo la mia passione ma anche tutta la competenza di questi anni una cosa importante è che quando vedrete recensioni opinioni nulla sarà convinto dal valore economico delle aziende che me le chiederanno ma saranno solamente serie e professionali quindi se ci saranno aspetti negativi da menzionare andrà fatto non troverete mai un prodotto pubblicizzato solo perché mi è stato o regalato o perché mi hanno pagato una recensione qui ci sarà sempre e soltanto la verità dei test effettuati questi test saranno poi anche condivisi con voi attraverso i miei video e quindi apprezzerò molto i vostri commenti le vostre interazioni tutti sanno coloro che si sono già iscritti che possono contattarmi attraverso messager o facebook in modo da avere risposta alle loro domande certo con un po di pazienza perché siete veramente tanti e non riesco a stare dietro tutti la cosa importante che ci sia passione partecipazione onestà comportamentale quindi datemi pure le vostre opinioni le vostre sensazioni in modo da andare a migliorare costantemente il canale a beneficio della possibilità di realizzare impianti fai da te nell'ambito dell'energia alternativa non ci sarà nessuna menzione per quanto riguarda gli impianti collegati alla rete quelli scambio sul posto o quant'altro quindi vi invito a seguire questo canale con la voglia di costruire le cose non risponderò quindi ai commenti che riguardano l'allaccio dei pannelli fotovoltaici alla rete nazionale è un canale di fai da te per serietà comportamentale lo dico solo in questo video non lo vedrete mai più in nessun video se avete piacere di contribuire affinché possa comprare alcune strumentazioni che servono per fare i test e quant'altro troverete sia nelle informazioni del canale o sulla testata del canale paypal in questo modo un contributo volontario andrà a beneficio del canale ovviamente tutti gli youtuber apprezzano i like e i commenti le iscrizioni e non voglio riempire ogni video di iscriviti 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 lo menzionerò solamente all'inizio e poi alla fine lo trovate utile se lo trovate importante iscrivetevi al vostro beneficio per quanto riguarda la cultura e mio per l'arricchimento del canale ragazzi grazie di avermi ascoltato in questi pochi minuti spero di essere stato chiaro qualsiasi domanda potete farmela qualsiasi contattazione potete contattarmi abbiate un po di pazienza arricchitevi culturalmente seguite questo canale e spero anche voi come me e altri riusciate ad avere un piccolo impianto fotovoltaico piuttosto che l'alimentazione completa di casa vostra vi ringrazio e al prossimo video